Musica Ci sono dei dati preoccupanti sulle pensioni, ve lo ricordavano anche ieri l'altro su un quotidiano economico, chi è andato in pensione nel 2008 è andato con il 70% dell'ultimo stipendio, chi andrà nel 2040, bravo se va con metà dell'ultimo stipendio percepito, se non cambia il sistema, però ricordiamo che questo paese ogni mese stacca 23,4 milioni di assegni previdenziali, uno ogni 2,5 abitanti e anche questo è un record europeo. Dopodiché uno si domanda come mai si fa fatica a far quadrare i bilanci dello Stato, i baby pensionati, lo ricordava il maggior quotidiano economico, ieri l'altro, costano 9,5 miliardi di euro l'anno e questo costo è confermato per i prossimi 20 anni, perché abbiamo andato in pensione d'accordo sindacati, DC, IPC, erano d'accordo tutti agli anni del compromesso storico, ha 38 anni di età anagrafica e adesso si pagano i conti, purtroppo, e nessuno arriva con la bacchetta magica a risolvere questi problemi, perché è così.